Il Kursk, è successo qualcosa? Rapporto? Due eventi acustici. Oh mio Dio. Superstiti? Capitano, dicono che è successo qualcosa al Kursk. Sì! Ci riproveranno! Fidatevi, lo faranno! Abbiamo le attrezzature e i sub. La imploro di accettare il nostro aiuto. Se ci servirà il vostro aiuto, ve lo faremo sapere. Quanta aria hanno ancora? Come stanno? Capitano! State lasciando morire i nostri uomini in inferno! Nessuno vive in eterno. Volevo darti di più. Per tutti e due. Sei la mia eternità.